Che bello andiamo al mare, divertiamo, riposiamo, prendiamo sole. Eh, stai calmo, stai calmo, non è essere eccitata. Ma cosa stai dicendo? Andiamo al mare, dobbiamo divertire, dobbiamo fare qualcosa. Eh, che è successo con il titolo Gerson? Oh, mi ha estroso, mi ha fatto, mi ha fatto, mi ha fatto così, mi ha fatto così. Ma quanto vuole poter dire? Sei bello. Sei duro. Sei duro. Sei duro. Ma comunque adesso non frega, non riputa più, mi stavo comunque qua. Stai caldando quello che fa te. E adesso? La prima era un ragazzo buono. Sì, e negli ultimi giorni, negli ultimi anni, è cambiato così, è proprio così. Ah, stai caldando, stai caldando. Stai caldando, stai caldando, facciamo le cose. Perché? Che è il titolo. Che è il titolo? Facciamo la corda che... Che è il titolo e il titolo. Che è il titolo. Che è il titolo. Poi dopo dieci minuti è tornato in macchina. Due eventi, due eventi. Ah, allora va bene. Non me ne succede. Adesso continuiamo la strada, arriviamo al mare. Che è il titolo. Poi restiamo arrivati a andare. Oh, ho dimenticato il mio costume di bagno! Ma anche se si è piaciuto! Adesso devo comunque tenere il tuo mare qua ma ci vuole fare un soldi? Oh, madre prego, non mi importa niente! Adesso tu, devi finire! State caldo! Sì! Sì! Io ti amo! Sì!